Pronti a incontrare Spider-Man, Batman, Capitano America e altri grandi supereroi Marvel e DC Comics? Sul sito web del Palazzo del Fumetto di Pordenone, grandi e piccoli possono immergersi in un meraviglioso tour virtuale dentro i disegni originali dei più famosi fumettisti del mondo. Disponibile online anche l'esposizione di Milton Caniff, uno dei padri del fumetto moderno. Sono due mostre importantissime con autori di calibro mondiale. Partiamo da Milton Caniff che è già iniziata alla fine dell'anno scorso. Milton Caniff è riconsiderato il Rembrandt del fumetto per le innovazioni che ha fatto, stilistiche e anche narrative. Ha ispirato autori come Ugo Pratt o Alex Stott, ma tanti altri. Abbiamo 61 tavole esposte che sono appunto fruibili tramite il digitale. L'altra mostra, lo vedete qua dietro, parliamo di supereroi, Masters of DC and Marvel, le due grandissime case editrici americane. Poniamo oltre 100 opere originali di oltre una decina di grandi autori. Sono due mostre che il PAF ha voluto assolutamente fare nonostante le prescrizioni anti-Covid e sono fruibili ovviamente in digitale, in alta definizione, con delle esperienze veramente interessanti. Le mostre sono visitabili su www.paf.it con immagini panoramiche a 360 gradi. A sostenere le iniziative del PAF c'è anche il Comune di Pordenone. Il dinamismo culturale che caratterizza Pordenone vuole vincere, si ribella a quelli che sono i vincoli della pandemia. Questa è la dimostrazione più forte. La cultura non si ferma, come un fenomeno carsico riemerge, anche se qualche virus lo vuole bloccare, compattare. Noi siamo la dimostrazione che invece si riesce comunque a garantire offerta culturale, anche se virtuale e non dal vivo. Una volta che il virus sarà una cosa dimenticata, il PAF brulli che era di gente.